Rinviamo le analisi un po' più approfondite in altra sede. Voglio solo dire una cosa e mi rivolgo a maggioranza e opposizione. Berlusconi è stato un grande alibi per tutti, un grande manto che ha consentito anche magari a chi faceva l'opposizione di non doversi misurare con la drammaticità delle questioni per quelle che sono. Allora io credo che la caduta di questo governo porterà tutti a fare i conti con se stesso. E' un problema che chiama a un'assunzione di responsabilità seria, perché vede, i governi passano, ma i problemi purtroppo rimangono e sono problemi che non possono certo essere delimitati a questi ultimi quattro anni, ma hanno molti di loro radici e sedimenti antichi. Onorevole Bersani